Allora signori buongiorno e come sempre ovviamente benvenuti sul canale HOMOTENASHANIME oggi un video che abbiamo l'enorme piacere di farvi vedere come vedete non è lo sdoppiamento in questo caso ma ho l'onore di avere qua uno youtuber ma soprattutto un amico una persona con la quale tra l'altro ci sentiamo da tempo e che andiamo a perpetrare un'amicizia anche se non ci sentiamo settimanalmente sono quelle cose che durano nella vita diciamo per affinità elettive insomma assolutamente sì a lungo periodo a lungo periodo che poi sono le cose migliori esatto quelle che appunto riusciamo a protrarre nel tempo ovviamente per chi di voi è più avvezzo al mondo dei board game non ha bisogno in questo caso ecco la sproporzione fra le parti è un po davide contro golia perché sulla parte ovviamente board game guarda caso board game ed intorni andrea da due piste a tutti quanti ma per chi non lo conoscesse appunto andrea del canale board game ed intorni specializzato verticale potremmo dire sul mondo dei board game giusto andrea? sì giusto per ora sì ciao a tutti i ragazzi ringrazio simone per essere qua con lui era un po che dovevamo fare un video se abbiamo organizzato questa serata e sì io mi occupo principalmente di board game sul mio canale omonimo board games ed intorni e siamo qua con un produttino che è un chiamavolo crossover perché esatto va a toccare anche un po' il mondo degli anime se parliamo di blade rondo è un gioco di carte se vogliamo sulla falsa riga di magic the gathering che moltissimi di voi conoscono e la particolarità di questo gioco è che ha tutte le illustrazioni anime molto molto carine sono quasi tutte donzelle simpatiche cioè non sono tutte tutte donzelle c'è un 1 per cento anche di altro che sono fitili per caso però perché comunque il core business sono le donzelle sono le donzelle come come di norma e come giusto che sia come giusto che sia in questo tipo di giochi è la particolarità di essere comunque un prodotto molto fruibile molto bello molto veloce noi abbiamo fatto delle partite prima di girare questo video in cui purtroppo io ho dovuto vincere schiacciando no sto scherzando è stata la prima volta che vengo battuto in questo gioco Simone è riuscito sono talmente tronfio di me in questo momento che non riesco neanche a contenermi sì ma non vuole concedermi la riuscita no perché voglio ritirarmi in bellezza in questo caso Andrea a parte che è un giocatore incallito era tra l'altro un giocatore fortissimo del mondo di magic era arbitro quindi ripeto è come quando voi nella vita nel giorno più fortunato andate a sfidare a vincere contro Usain Bolt esatto voi capite che questa cosa non accadrà mai più nel corso della storia quindi io devo ritirarmi con una vittoria non giocherò mai più con Andrea ma sono troppo tronfio di me stesso al momento io avrei voluto portare un gameplay un mini torneo tra di noi al meglio delle tre ma si muore niente dovete accontentarvi del mio sorriso pacatamente ebete di vittoria non ne vuole sapere questo video comunque lo dedico a chi segue il canale di Omotenashi perché comunque questo prodotto sul mio canale l'ho già portato ho già fatto un mini gameplay dei video li ho già fatti quindi principalmente adesso siamo invece stiamo dedicando questo video principalmente appunto agli spettatori del canale Omotenashi come giusto che sia perché infatti le tematiche abbiamo visto è una full immersion appunto in un mondo anime manga qui abbiamo magia centrico per quello che possono essere ma tra l'altro cosa che apprezzo pure io che come tu sai sono molto nubo della parte dei board game ha delle meccaniche veramente interessanti ma soprattutto è auto esplicativo ed è semplice non ha bisogno di accrocchi particolari e come dicevi le carte sono ivi contenute non devi lanciarti al collezionismo più pazzo e più folle no no è un prodotto che non è un prodotto da collezione carte da collezionare comprare le buste non c'è nulla di tutto ciò è un prodotto fatto e finito composto da un set base e da altri quattro set che sono base anche loro ma che in realtà introducono delle nuove tematiche quindi hanno carte particolari certo è possibile entro certi limiti mischiare tutto ma non è una cosa diciamo consigliata se vogliamo come diceva Simone è un prodotto molto semplice abbiamo un manualino che è di poche pagine qualche decina di pagine ma si legge tranquillamente senza problemi si inizia a giocare senza problemi in dieci minuti non ci è voluto tanto il bello è che è un prodotto invece di contro molto profondo quindi i prodotti migliori normalmente sono semplici fasci da intavolare da giocare ma complessi da padroneggiare padroneggiare questo ci vuole diciamo ci vuole un po' ci vuole decine decine di partite quindi il fatto che lui mi abbia battuto alla terza diciamo che è un evento abbastanza inconsueto cataclismatico quando si allineano tutti i pianeti quelle cose lì esatto però ahimè comunque è rimasta ripeto testimonianza quindi così è stato così è stato che tra l'altro è stata un po' una vendetta una rivincita tua diciamo di un'antichissima partita magic esatto abbiamo una partita magic esatto ora ovviamente non entriamo nei dettagli ma chi di dovere poi sarà linkata saprà io ormai quasi un ventennio fa stavo per vincere una partita al full micotone a magic ripeto a maggior ragione essendo andrea dentro a quel mondo ecco mancava veramente poco ma una mia collega che oseremo definire come scostante in quel momento venne era in un momento di pausa del lavoro e con un mal rovescio gettò al vento tutte le carte e quella che era tra l'altro la mia unica possibilità di vittoria nella vita per cui ho covato rancore per questa persona per tipo un ventennio e soprattutto la voglia di rivincita che ho sono riuscito a ottenere oggi quindi dovete capire ecco perché me ne vado appunto tronfio della mia vittoria ma a parte questa cosa è un gioco mi dicevi ecco andrea una peculiarità il fatto che è passato forse un po' in sordina e che comunque aveva anche un prezzo accessibile rispetto a quello che vediamo il giorno d'oggi nei kickstarter che sono delle follie giusto? giustissimo questo era un prodotto che aveva un prezzo molto abbordabile tra l'altro non era previsto un solo livello ma più livelli quindi si poteva acquisire semplicemente la scatolina base con una cifra intorno ai 20 dollari quindi stiamo parlando veramente di un'inezia alla quale si potevano aggiungere le espansioni però il piatto forte era l'edizione da collezione che è quella che abbiamo noi qua che includeva anche dei bonus quindi questa edizione è stata fatta in solamente 2000 copie ha dentro tutti i set base una moneta di metallo dei premat molto carini e poi un artbook fatto molto bene tra l'altro completo perché riporta tutte le illustrazioni poi riprese dentro nei vari set e quindi assolutamente ne valeva la pena per una cifra che s'oscillava adesso non ricordo esattamente perdonatemi però stiamo parlando intorno tra i 100 dollari 120 dollari una cosa del genere pochissimo visto quello che c'è in giro oggi esatto e quindi poteva essere anche un buon investimento ora normalmente questi prodotti vengono presi per collezionismo perché hanno delle belle figurine delle bei disegni quindi normalmente vengono presi per quei motivi lì ma quello che stupisce che ha stupito diciamo in primis me stesso è che questo prodotto è molto molto valido come gioco come gioco a se stante se parliamo di skirmish quindi se volete un gioco uno contro uno skirmish o anche in solitaria è un ottimo gioco è uno dei migliori è probabilmente il migliore che ho giocato prende diciamo delle cose da magic ma non è magic questo vi dà una sensazione simile a quella di stare giocando diciamo di una partita a magic però ha una strada sua e appunto quello che mi ha stupito è proprio il fatto che sia un prodotto comunque validissimo e per questo è strano che sia passato un po' insordinato allora secondo me chi vuole comunque grafica anime magari non va a vedere il gameplay e quindi probabilmente non è interessato da quel punto di vista lì chi vuole gameplay va su prodotti che hanno un aspetto se vogliamo più professionale quindi si presentano in maniera un po' più professionale parlando di giochi di carte uno magari va su altri tipi di giochi dove hai una grafica più normale perché noi non dobbiamo dimenticare una cosa che gli anime non è che piacciono a tutti lo stile anime per molti non è questa cosa diciamo così bella così da andare a vedere è più facile trovare orientati al dnd magari come tipologie con un fantasy esatto dragon lens ma molti che giocano board game cioè gli piace vedere che ne so gli uccellini le piante cioè cose normalissime che non c'entrano a nulla ma a volte neanche col fantasy quindi ci sono un sacco di giochi dove fate dei duelli magari con le civiltà antiche per dire e quindi un prodotto di questo tipo diciamo che sta un po' in diverse nicchie e ciò secondo me poi un'altra causa è il fatto che questo è un prodotto che era diciamo esclusivo giapponese era in giapponese non era mai stato tradotto addirittura sì infatti ha un po' di anni come prodotto e fuori dal giappone tu non lo potevi giocare cioè qualche diciamo amatore se vogliamo di questo genere lo giocava ma se lo doveva tradurre insomma era un po' una fatica era scritto tutto in giapponese non si capiva dentro un tubo adesso finalmente l'hanno provato in inglese perché sono inglese e è fruibile da tutti certo però questa cosa che apparteneva a un mondo di nicchia dentro una nicchia e compagnia bella insomma esatto una serie di fattori è un peccato perché invece è un prodotto validissimo che dovrebbe essere conosciuto di più secondo me io l'ho portato sul canale anche per farlo un po' conoscere in giro reperibilità è una delle cose che più interessano chi ci guarda perché vi starete chiedendo vabbè adesso ci state facendo fate parlare di questo gioco è bellissimo avete giocato ce lo farete vedere adesso lo faremo vedere ma si recupera questo gioco ecco allora è stato è consigliato il KS quest'anno non troppi mesi fa e in quel frangente era molto facile recuperarlo perché molti comprano fanno il KS per rivendere si recuperarla adesso sinceramente non lo so non ho verificato se è così facile si può provare recuperare l'ideale sarebbe recuperare queste edizioni da collezione però sono solo 2000 e probabilmente chi ce le ha adesso se le tiene strette se le ha vendute le ha già rivendute quindi non so se ci sarà una ristampa perché ripeto purtroppo tutto questo successo il gioco non l'ha avuto e quindi sappiamo che se la società non riesce a marginare sopra sul gioco è molto difficile che si va a buttare in un'altra in una ristampa che poi potrebbe avere un esodo disastroso e quindi non lo sappiamo questa è una casa comunque che è specializzata nel produrre giochi di origine giapponese Japan Anime mi pare che si chiami ne ha fatti una caterva se voi andate a vedere il loro catalogo ne hanno una caterva è che finora i giochi che facevano facevano tutti schifo sinceramente non erano giochi così diciamo mi pare che uno ce l'hai anche tu che è tanto cuore dovrebbe essere esatto l'ha detto in alto sì 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 l'abbiamo visto però ti avevo detto lascia stare lascialo vivere cioè va bene come collezione o come fermaporta ma non è una roba fruibile per divertirti no questo assolutamente ripeto ve lo posso testimoniare e spero che appunto la mia testimonianza ecco non dico che debba avere un chicco un valore in più ma tenete presente che appunto essendo io avulso da questo mondo ecco dirvi che qualcosa mi è piaciuto sono riuscito a farlo tranquillamente a incorporarlo in quelli che sono i dettami delle figure di Disney che mi piacciono ci è riuscito veramente a meraviglia noi tra l'altro adesso ovviamente finirà la registrazione ma nel mentre avrete visto perché lo facciamo in due step quello che possiamo chiamare unboxing fra virgolette ora farò delle riprese zenitali dall'alto ma che vedrete adesso mentre abbiamo parlato quindi l'unboxing qualche foto statica insomma sperando che il tutto sia di vostro gradimento e noi la cosa più importante ovviamente perché ci teniamo la culture action degli youtuber iscrivetevi signori perché poco più poco meno ma fra il 40 e il 50% di chi mi ci segue non è iscritto al canale per entrambi questo vale quindi basta veramente un click che è completamente a titolo gratuito non costa niente ma è l'unico modo per far apprezzare al famoso algoritmo di youtube il fatto che ci seguiate perché i numeri di per sé ci sono però ecco quella spunta darebbe sicuramente un boost in più noi speriamo di avervi fatto cosa gradita io ovviamente ringrazio ancora Andrea per essere venuto qua a trovarmi e ovviamente poi tutti i referral link li trovate direttamente qua sotto per la parte più tecnica del gioco perché appunto qui era il connubio la trade union fra i nostri mondi questa la trovate era inutile fare una disamina più specifica sul mio canale la trovate il video sul canale di Andrea che rimarrà ovviamente qua nel referral link quindi grazie come sempre a voi vostri cari grazie Andrea per essere venuto e al prossimo video direi in questo caso buona giornata a tutti grazie ragazzi Gianè bye bye ciao ciao